Quando studiavo alla Columbia University, lavoravamo solo con strumenti digitali. Da allora il PC è diventato un alleato per creare soluzioni innovative. Il mio obiettivo è dare agli edifici animazione, movimento. Il nome Rashid porta ad Abu Dhabi e suo l'albergo che ricopre il circuito di Formula 1. Nel futuro, il progetto per un teatro a Pisa. L'Italia per me è una sorta di ossessione. Da bambino ho vissuto a Roma con i miei genitori. Poi ci sono tornato per un anno, durante l'università. Fare l'architetto qui non è facile, visto l'immenso patrimonio culturale del paese. Ma come diceva Sant'Agostino, l'uomo vive nell'universo come un cane in una libreria. Ci aggiriamo annusando. Intorno a noi c'è tutto, eppure non riusciamo a vederlo. In Italia è così, c'è tutto. Basta riportare in luce la sua bellezza. Anni Rashid, l'arte ce l'ha nel sangue. Un padre pittore, un fratello designer. Ho incontrato mia moglie grazie all'architettura, che è diventato il nostro mondo, a casa e nello studio, che condividiamo. Ora la catena sembra essersi rotta. Mio figlio è appassionato di neuroscienze. Forse un giorno studierai i cervelli di famiglia. Ma chi sa, magari avrà un nuovo cervello un giorno.